La neve è tornata in biancare la stazione degli sport invernali di Roccaraso a Remogna. Gli sciatori, in grande attesa, già sognano la riapertura della stazione più grande del centro-sud Italia. La coltre è bianca, ma è come quest'anno è stata particolarmente attesa, soprattutto dopo l'avvio sottotono della stagione invernale, che ha spinto pure le istituzioni a convocare un tavolo urgente di crisi per le terribili ricadute economiche sul settore e sull'intero comprensorio. I primi fiocchi fanno quindi sperare su un'inversione di tendenza, anche se la stagione ovviamente risulta già fortemente compromessa. La precipitazione nevosa, in ogni caso, ma come avviene solitamente, ha portato inevitabili disagi sulla strada, stata alle 17, proprio nel tratto di Roccaraso, con qualche tir mezzo pesante rimasto ritraverso e il traffico a rilento, problemi alla circolazione, insomma, non si è arrivati proprio prevenuti.